Le pubbliche amministrazioni hanno una serie di incombenze che derivano loro da impegni di legge. La cosa fondamentale, il convegno di oggi cerca proprio di mettere in luce questo aspetto, è combinare questi impegni, l'efficientamento, le diagnosi energetiche, il risparmio energetico, l'impiego delle fonti alternative eccetera, combinare questi impegni con i possibili ritorni sia di tipo tariffario in generale ma ancora in generale con la possibilità di partecipare direttamente ai progetti, ai programmi europei riuscendo addirittura a rendere produttivo questo tipo di approccio allo sviluppo delle politiche energetiche.